La Cassa di Risparmio di Volterra ha vinto il premio AB Innovazione 2015 nella categoria Innovare per comunicare, con un progetto giovane ed efficace di ascolto diretto del cliente del territorio. E' così, lei è giovane, non ricorda i miti dei giovani degli anni Sessanta, Kerouac è on the road, Kerouac per essere se stesso doveva sentire la gente e vivere con la gente, perché non fare la stessa cosa con la banca? Vivere con la gente per essere banca e per modificarsi giorno per giorno, si coinvolge se stessi, si coinvolge un concetto di democrazia economica, si coinvolge di fatto l'identità nuova della banca nel divenire, non una volta per tutte. Ecco, e spero che anche per la Cassa di Risparmio di Volterra lo sia giorno per giorno con questo legame forte on the road con la gente. In questo modo le banche del territorio riaffermano anche la loro relazione peculiare con il cliente. Eh, le banche del territorio, se non ci fossero le banche del territorio, come farebbero i gruppi a essere solo loro a controllare l'attività bancaria? Noi teniamo questo paese nei territori, nei piccoli territori. E' un'Italia da tanti campanili, è un'Italia dove le piccole banche o le banche medie hanno questo ruolo di tenere insieme società, di tenere insieme economia e naturalmente il bene comune nell'interesse del paese. Volterra aveva già vinto il premio Abinnovazione nel 2012 per il progetto di copertura in fibra ottica della Val di Cecina a supporto dello sviluppo del territorio. Una soddisfazione questo doppio riconoscimento nell'arco di pochi anni. Anche quello fu un ruolo a cui adempimo con grande interesse, fu un investimento quello, un grande investimento. Mentre invece questo di oggi viene questo tipo di innovazione dal cervello dei nostri quadri a cui faccio un ringraziamento anche in questa serie perché si deve a loro, alla loro capacità di confrontarsi veramente al fondo delle cose. Allora ecco, anticipammo perfino i programmi governativi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.